Cameri Corsaro sul campo della Juventus Domo nella settima giornata del regione di ritorno perde la compagine di Mister Castelnuovo dopo una serie di tre vittorie consecutive. Il vantaggio arriva al terzo minuto con Dedia che dalla distanza colpisce con una bordata e sigla appunto l'immediato 1-0 sorprendendo Mellerio a quattordicesimo su calcio d'angolo. Ha controllato in area di rigore Timaglia ma il suo sinistro non è preciso. Il ventiduesimo minuto l'inclusione di Brigata ma la sua conclusione finisce abundantemente sopra la traversa ventisettesimo sempre gagliata e protagonista come lo sarà per tutto il primo tempo calcio di punizione di Tugnolo che finisce di poco fuori bersaglio nella ripresa la Juventus Domo ci prova con subito dei cambi Cugliandro e Andreoli per far rifiutare Minocci e Rodle ma al diciannovesimo ancora il Cameri che colpisce azione forse viziata da un fallo Brigata Sincunia in area di rigore Soncine non può commettere fallo perché già ha munito l'uscita di Mellerio non è perfetta e appunto il numero 10 firma il 2-0 Gagliate. Juventus Domo che si affida al suo orgoglio per rifarsi sotto Marco Fernandez ci prova al volo difficile la conclusione ma appunto il tiro finisce di poco lontano dalla porta. Al ventiseiesimo invece trova il gol che vuole dire vittoria al 26esimo minuto su calcio di punizione Mantegazza sorprende Mellerio in una giornata sicuramente no e Cambri appunto che si porta sulla triplo vantaggio al 28esimo del sinistro da fuori di Andrea Fernandez è una bellissima conclusione ma Zenoni si distende altrettanto bene al 43esimo partita ormai archiviata c'è la girata da fuori di Andreolli che non va lontano dalla traversa difesa da Zenoni per cui la partita poi si chiude qui sul risultato di 3-0 a favore del Cameri.